Furto al bar al Cappuccino di Via Conciliazione, dove nella notte è entrata in azione la banda dei videopoker. I ladri intorno alle tre sono riusciti a mettere fuori uso il sistema d'allarme del locale, ma il trambusto è stato udito da alcuni residenti della zona che hanno avvertito i carabinieri. I malviventi sono riusciti a entrare nel locale forzando con arnesi da scasso la saracinesca alla porta d'ingresso. All'interno hanno prelevato due videopoker che hanno caricato su un'auto grigia, prima di scappare a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. Una macchinetta è stata persa nella fuga in Via Corneliana, mentre l'altra parte del bottino è stata rinvenuta dai militari questa mattina in Via Bubba. Si tratta del secondo colpo a segno nel bar in meno di due mesi. Le indagini sono ancora in corso.